Ho letto attentamente il suo curriculum e le sue note caratteristiche. Non so che un po' troppo caratteristiche, almeno per la mia scuola. Beh, me ne rendo conto, ma non so che cosa fai. Io sono per un insegnamento tradizionale, questo è il suo registro. A proposito, la ringrazio tanto per la casa, è molto accogliente. Non è me che deve ringraziare, ma il proprietario, l'avvocato Pellocanto. È lui che gliel'ha messa a disposizione. Beh, andrò da lui oggi, dove hai? Nel suo palazzo, in piazza, chiunque gliel'indicherà. Ora venga, venga, la presenta ai suoi colleghi. Il maestro Sovarino, piacere. C'è te. Il professor del core, benvenuto. Grazie. Bene, signore, buon lavoro a tutti. Grazie. Venga, le faccio vedere la sua aula. Grazie. Lei ha la media? Sì, la terza. L'anno prossimo io ridicherò le sue alunne. Quindi cerchi di fare un buon lavoro, e così io faticherò molto meno. D'accordo? Come sono i ragazzi? Poveri e destesili. Comunque, il clima è buono e il paese è bello. Abbiamo persino i resti di un teatro greco. Eh, davvero? Ecco. Grazie. Mi piacerebbe vedere un teatro greco? Grazie. Grazie. No. Grazie. Grazie. Grazie.